questo è l'aeroporto arrivederci vi auguro una buona vacanza biglietti prego ecco a lei avete bagagli sì e temo che questa sia alquanto pesante non si preoccupi la metta su questo nastro contiene oggetti di valore no qualcos'altro queste bene tenetele pure con voi come bagaglio a mano e mettetevi in fila da quella parte grazie ecco la macchina a raggi x e questa cos'è è una macchina che riesce a vedere dentro le valigie mettete qui le vostre valigie prego guarda quella è la mia e si vede te di dentro dinosaurio è una magia questo è l'aeroplano che porterà in vacanza peppa e la sua famiglia aeroplano a george piacciono gli aeroplani benvenuti a bordo ci auguriamo che questo viaggio sia di vostro gradimento io mi posso sedere vicino al finestrino ma certo peppa sì george anche tu puoi sederti vicino al finestrino qui è il comandante dell'aereo che vi parla siete tutti pronti a partire sì pronti signor comandante e allora decollo guarda teddy visto stiamo volando che cosa vedi fuori dal finestrino peppa ci sono tante nuvole e sta fiovento adesso c'è il sole un po' di lamponi un po' di mertilli un po' di more e un po' di uva spina un bel frullato per tutti è scusito e tu cosa vorresti nel frullato piccolo george? le fragole ma george non si può fare un frullato mettendoci soltanto le fragole che ne diresti di aggiungere anche dell'ananas george? no forse george vuole provare il frullato dei dinosauri ha detto frullato dei dinosauri certamente è un frullato fatto apposta per i dinosauri dinosauri vediamo un po' un po' di questa una di queste un po' di questi e un po' di questo ecco il tuo frullato dei dinosauri fatto apposta per i dinosauri e per i loro piccoli amici dinosauri anch'io vorrei assaggiare il frullato dei dinosauri posso signorina coniglio? anch'io ma certo un frullato dei dinosauri per tutti oh capperi c'è qualche problema signorina coniglio? non ricordo più quali ingredienti avevo messo nel frullato dei dinosauri posso dirle io cosa ci aveva messo? davvero? e come farai? a me basta annusarlo freddi volpe ha un olfatto molto sviluppato sono sicuro che c'era una banana bene una banana tre... anzi quattro fragole cinque ciliegie fragole ciliegie una pesca mezzo ananas una fetta di anguria e un altro ingrediente ma che cos'è? è una carota? brava! è una carota! ebbia! frullato dei dinosauri per tutti quanti allora vi siete divertiti qui alla fiera della frutta? e come! la frutta ci piace molto sì e anche le carote è il giorno della festa di beneficenza tutti gli adulti sono presenti benvenuti signori adulti Danny Cane si occupa del microfono donate dei soldi per il nuovo tetto della nostra scuola Emily Elefante vende oggetti di ogni tipo da questa parte! da questa parte! qui potete trovare di tutto e di più! quanti oggetti hai cara Emily Elefante? ci vorrà una giornata intera per venderli tutti ecco il signor Volpe qui ci sono cose molto interessanti palloncini! bellissimi palloncini! gradisci un palloncino madame gazzella? mi piacerebbe comprarne uno rosso quant'è Pedro? quanti soldi ha nel borsellino? oh che sciocca! stiamo raccogliendo soldi per il tetto della scuola guardi madame gazzella! sono già riuscita a dare via tutto quanto! ma è meraviglioso Emily! quanti soldi sei riuscita a raccogliere? come soldi? non hai ricevuto dei soldi per la tua mercanzia? non ne ho avuto bisogno! il signor Volpe ha portato via tutto per niente! fatevi truccare il viso! Susy Pecora si occupa del trucco per il viso buongiorno cara Susy mi trasformi in un leopardo per favore? no, io so fare soltanto i frutti e va bene, posso essere un... una prugna! ecco, viola! Peppa si occupa della pesca della fortuna accorrete! accorrete alla pesca della fortuna! buongiorno Peppa! buongiorno signor Toro! lo sa che è la faccia tutta verde? infatti sono una mela! oh, non le piacerebbe tentare la pesca fortunata? perché no? che cosa devo fare? solo tirare fuori un premio dal barile! qui vincono tutti! il signor Toro ha vinto una bambola! posso provare anch'io? la signora Gatto ha vinto una scavatrice! su, saliamo sulla mia barca! sei proprio certo che la tua barca sia sicura, nonno coniglio? che dici? è ovvio che è sicura! l'ho costruita con le mie mani! tanto non serviva! tutti a bordo! pescare è il mio passatempo preferito! anche per me! e che cosa serve in una battuta di pesca? le canne da pesca? neanche per sogno! un cestino da picnic ben fornito! sei molto bravo a governare la barca, nonno coniglio? ma io non sto governando la barca! credevo lo facesse qualcun altro! oh no! non c'è nessuno al timone! siamo dispersi in mare! e guardate! la barca di nonno coniglio sta affondando! niente panico, amici! ho vissuto situazioni peggiori di questa! sei sicuro? no! questa è la peggiore! siamo in salvo! però siamo bloccati su un'isola deserta! esatto! e con il cielo e il mare come unica compagnia! e per di più non abbiamo niente da mangiare! oh! io ho una barretta di cioccolato! bene! allora dobbiamo conservarla nell'eventualità che ci venga fame più tardi! oh no! nonno coniglio ha mangiato tutto il cioccolato! che posto orribile per restare bloccati! a nessuno di voi manca il formaggio? siamo qui solo da cinque minuti, nonno coniglio! farò un segno sulla sabbia ogni volta che penserò a un bel pezzo di formaggio! dovremmo chiedere aiuto! chiedere aiuto? la trovo un'idea super meravigliosa! aiuto! nonno coniglio è molto bravo a gridare! avete sentito cos'era? quello era un richiamo dal mare! a me sembra una scatola di biscotti! no! è uno scrigno del tesoro! ma no! dentro ci sono ancora i biscotti, Danny! qualcuno di voi vorrebbe un biscotto? sì! io! 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 e adesso è un vero scrigno del tesoro! dai! andiamo a cercare dei tesori! così lo riempiamo! urrà! però uno di noi deve rimanere qui per fare la guardia alla nave dei pirati! resto io! farò io la guardia qui! mi raccomando! se si avvicina qualcuno, tu grida alt! e poi chi va là? alt! ehm... chi va là? molto bene! e adesso andiamo a caccia dei tesori! urrà! a Danny Cane piace molto fare il pirata! urrà! a tutti piace fare i pirati! urrà! pirati noi siamo! per mare navighiamo! in cerca del tesoro! all'arri e maggio andiamo! Danny trova una pigna! ecco il tesoro! Peppa trova una conchiglia! ecco il tesoro! Susi trova un vecchio pezzo di corda! il tesoro! e Freddy trova un sasso! ecco il tesoro! penso proprio che mi farà un bel sonnellino! Pedro si toglie sempre gli occhiali prima di dormire! facciamo un agguato a Pedro! sì! Danny, Peppa, Freddy e Susi vogliono spaventare Pedro! wow! ahahah! ma tu ti eri addormentato! ecco, è vero! scusatemi! sei fortunato che noi siamo pirati buoni! abbiamo portato dei tesori! bravi! mettiamoli nello scrigno del tesoro! beh, prendete una barca a vela! per andare in barca a vela bisogna avere molta esperienza, no? allora vi consiglio un pedalò! questo mi sembra più adatto! sì! quella grossa ruota pale gira e lui avanza sull'acqua! io dico di prendere il pedalò! sì sì sì! quando suonerà questa campanella vorrà dire che è ora di tornare a riva! buon divertimento, signori! ma perché rimane fermo? non lo so! in che modo si avvia il motore? ma è lei il motore, papà Pig! deve cominciare a pedalare! oh! ho capito! bene, reggetevi forte! il pedalò è una specie di bicicletta sull'acqua, papà! che bello pedalare sul lago con il sol su dai papà resisti perché sei tu il motor! arrivano anche Emily Elefante e la sua famiglia signorina Coniglio vorremmo noleggiare una canoa, per favore! ma prego! a loro piace molto andare in canoa pronti a remare? sì, papà Elefante! allora si parte! buongiorno, signorina Coniglio arrivano anche Danny Cane e suo papà Capitan Cane vorremmo noleggiare una barca! come no? abbiamo canoe, barchi a vela oppure pedalò non mi sono certo fatto un nome navigando per oceani tempestosi per finire a sguazzare su un semplice pedalò non leggeremo una barca a vela vuole che le spieghi come funziona? lei vorrebbe spiegare a me come funziona io sono Capitan Cane! salta a bordo, Danny! issa l'ancora! prendiamo il largo! agli ordini, Capitan Papà! ciao Peppa noi andiamo in barca a vela noi andiamo in canoa e noi pedaliamo guardate! un'isola! fermiamoci a fare un picnic evviva! che giornata lunga è stata! sorriso! come mai siete tutti qui? signorina coniglio ho da consegnare una lettera speciale nelle sue proprie mani labbra subito! signorina coniglio la prego di venire al mio palazzo riceverà una medaglia per il duro lavoro che svolge porti degli amici distinti saluti la regina la signorina coniglio è svenuta come faccio ad andare? sono troppo impegnata con il mio lavoro stia tranquilla non lavorerà nessuno quel giorno signorina coniglio la regina ha proclamato un giorno di festa è arrivato il giorno dell'appuntamento con la regina Peppa e i suoi amici accompagnano la signorina coniglio dalla regina andiamo dalla regina andiamo evviva il pippurà dalla regina andiamo questo è il palazzo della regina permesso c'è nessuno in casa guardate quante cose di lusso ci sono qui attenti non toccate niente che casa enorme quante stanze per giocare a pallone ci sono in questo palazzo dove si è nascosta la regina? regina! regina! dove si è nascosta? buongiorno mi scusi ha visto la regina per caso? la regina è una vecchia signora che porta una corona sulla testa sono io la regina la signorina coniglio è svenuta di nuovo buongiorno signora regina perché non ha una corona sulla testa? non la indosso spesso perché è molto pesante adesso passeremo accanto a tre alberelli poi ne raggiungeremo uno grande a quanto pare i tuoi alberelli sono un po' cresciuti sì, hai ragione ormai sono diventati alberi adulti eh già e ora come facciamo a riconoscere quello grande? di solito sono io quello che sbatte contro gli alberi mamma pig ha trovato il grande albero brava mammina sapevo che ti avremmo trovato da questa parte seguitemi ma dov'è la fontana dei pesciolini? manca tanto siamo quasi arrivati io comincio ad avere un po' di fame non c'è problema c'è un bar lungo il sentiero oh, perfetto ho proprio voglia di un bel caffè caldo Giorgio e io possiamo prendere un gelato papino? ma certo ci mangiamo tutti un succulento gelato il bar dovrebbe trovarsi proprio qui oh sei proprio sicuro? non sarà dietro quella catasta di legna? temo che quella catasta di legna sia il bar che ricordavo credo proprio che oggi dovrete rinunciare al vostro gelato buongiorno cosa desiderate prego? oh un caffè caldo e tre grossi gelati per favore ecco a voi la ringrazio è buonissimo prossima tappa la fontana dei pesci seguitemi oh, non vi conviene andare da quella parte finirete per trovarvi tre cespugli di more quelli cerco erano la mia scorciatoia la facevo sempre quando ero piccolino no se volete raggiungere la fontana dei pesci dovete prendere quel sentiero laggiù ma io preferisco prendere la scorciatoia come vuoi chi di voi vuole passare in mezzo ai cespugli di more? io e chi vuole prendere il sentiero? io vediamo chi arriva prima arriverò io per primo arrivederci mamma pig sta lavorando al computer mammina dimmi peppa Susy mi racconta una montagna di sciocchezze ma no non è vero mi ha detto che tanto tempo fa io ero una neonata beh, ha ragione è proprio così guarda dovrei avere delle foto sul computer indovina un po' chi è? è Alexander Alexander è il cuginetto di Peppa no quella sei tu da piccola Peppa quando eri neonata che cosa avete tanto da ridere qui? guarda papino quella è una mia fotografia di quando ero appena nata mi ricordo di quella foto Peppa risale al primo giorno che siamo entrati in questa casa come il primo giorno? quando eri piccola ci siamo trasferiti in questa casa abbiamo caricato tutte le nostre cose sulla macchina mamma pig ha appeso delle fotografie alla parete e tuo padre ha fissato al muro una mensola poi nonno pig ha piantato degli splendidi fiori in giardino dove sono finiti gli splendidi fiori piantati da nonno pig? se ne è occupato tuo padre beh ecco questo terreno non era molto adatto a quei fiori e poi avevate bisogno di spazio per giocare a te Susi piaceva tanto giocare in giardino vuoi dire che io e Susi eravamo già amiche a quel tempo? certo tu e Susi siete sempre state buone amiche allora tanto tempo fa io e Susi ci divertivamo già a saltare nelle pozzanghere ma no Peppa eravate troppo piccole non sapevate ancora camminare peccato e allora cosa facevamo? piangevate? e sono sicura che sarà il profumo più buono e più profumato del mondo delizioso arriva George non ti avvicinare George sto lavorando faccio un profumo puoi guardare se vuoi prima raccolgo un bel fiorellino profumato con i petali bene aperti poi lo metto nel mio bicchiere d'acqua fermo George non devi mettere l'erba nel mio profumo hai capito? perché deve assorbire il profumo dei fiorellini odora? a George non piacciono i fiori profumati nonno Pig è nel suo orto aromatico nonno, nonno, mi fai un favore? annusi questo? ha lo stesso odore dell'acqua stagnante sai nonno, è il mio profumo speciale l'ho fatto con tutti i fiorellini del vostro giardino oh, certo mi ero sbagliato questo è il miglior profumo che esista al mondo è vero e a te piace George? no, a George non piace per niente il profumo dei fiorellini e allora prendi questo secchiello George tu potresti fare un profumo con qualcos'altro io ho molte piante dal profumo delizioso qui nel mio orto aromatico questo è il rosmarino lo uso spesso in cucina ha un profumo molto interessante questa invece è menta e infatti odora proprio di menta e questa è la pianta di lavanda oh, questa odora proprio come il profumo di nonna Pig perbacco io sento un fortissimo aroma di lavanda ma nonno coniglio come ho fatto ad andare fin sulla luna? ho volato a bordo di un razzo in un razzo così piccolo? questo è solamente un modellino il razzo che mi ha portato sulla luna era gigantesco siete tutti capaci di contare fino a cinque? sì uno due tre quattro cinque ma siete bravissimi però quando si va nello spazio si fa il conto alla rovescia cinque quattro tre due uno e poi bisogna gridare pronti al decollo più forte che potete pronti al decollo non ho sentito? gridate più forte pronti al decollo prum ed eccomi là in volo nello spazio oh fino a che sono atterrato sulla luna era così bello lassù sono rimasto senza parole che bella storia voi lo sapevate che sulla luna si può saltare molto in alto? no quanto è in alto? tanto perfino più di una casa e perché si riesce a saltare tanto in alto sulla luna? eh perché la forza di gravità sulla luna è minore proprio così bravo scommetto che tu sei il primo della classe sì Edmond Elefante è il primo della classe mi sentivo un po' solo lassù con me c'erano solo la luna e le stelle e sapete qual è stata la cosa più straordinaria? allora qual è stata la cosa più straordinaria nonno coniglio? deve gridare più forte perché nonno coniglio non parla più? che disdetta nonno coniglio è rimasto senza voce buon divertimento grazie nella prima stanza ci sono vasche piene di pesciolini pesciolini ci sono milioni di pesci minuscoli pesci 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 che nuotano nel mar chi vuol te la mia gold di amico diventar qualcuno di loro può diventare suo amico no sono tutti troppo piccoli vediamo quali pesci ci sono nell'altra stanza andiamo incontrano Candy Gatto e la sua famiglia ah ciao Candy ciao ciao Peppa miau che cosa siete venuti a fare qui? noi ci veniamo molto spesso è più divertente che guardare la tv a noi piacciono i pesci noi siamo venuti a cercare un amichetto per la pesciolina Goldie cosa c'è in questa vasca? non lo so io non vedo niente ma Papà Pig c'è un pesce proprio davanti a lei dove? è un pesce molto molto grande grande e questo pesce potrebbe essere un amico di Goldie? no lui è troppo grande non importa andiamo a vedere nell'altra stanza cosa c'è in questa vasca? dinosauro secondo George quello è un dinosauro ma no quello non è un dinosauro George è un buffo pesce che si chiama cavalluccio marino quante cose sai sui pesci Candy? sì perché i pesci mi piacciono il cavalluccio può essere amico di Goldie? ehm no a che cosa volete giocare? George vuole giocare alla corsa delle macchine ho un'idea costruiamo una macchina da corsa per George ma tu la sai costruire una macchina da corsa Papino Caro? no ma nonno Pig ne è capace cosa? va bene costruirò una macchina da corsa per George questo è il capanno degli attrezzi dove nonno Pig costruisce le cose vediamo che cosa abbiamo qui ah una vecchia carrozzina no George non è più un neonato è cresciuto ci servono soltanto le ruote della carrozzina Peppa oh questo può fare da cofano e questo può essere il sedile qual è il tuo numero preferito George il numero preferito di George è due oh oh questa sarà una macchina da corsa super veloce evviva però non deve andare troppo veloce nonnino caro perché George è ancora piccolo non ti preoccupare Peppa questa sarà una macchina a pedali non una macchina a motore ah poi montiamo il volante e adesso mancano solamente gli occhiali da corsa e il casco ecco a voi la macchina da corsa di George arrivano Danny Cane Zoe Zebra e Pedro Pony ciao a tutti amici guardate la nuova macchina da corsa di George che bella ti sfido a gareggiare anche io anche io ma voglio gareggiare anche io dov'è la tua macchina da corsa Peppa io non ce l'ho una macchina da corsa non te la prendere Peppa tu puoi essere il capo dei meccanici e che cosa devo fare aggiustare la macchina di George se si rompe qualche cosa ah ho capito oh oh no non ancora Danny credo che per oggi rimarremo sulla pista dei piccoli gli sciatori in erba imparano a sciare su una discesa poco ripida per partire spingete piano con le vostre racchette via per frenare dovete unire le punte degli sci è proprio bello sciare torniamo subito su e scendiamo di nuovo sciare in salita non è per niente facile ah oh per tornare sulla cima dovete camminare di lato come fanno i granchi è divertente camminare di lato come i granchi madame gazzella ci fa vedere come scia lei per favore no non è il caso sì e va bene lei è una vera campionessa eh sì da giovane sono stata campionessa mondiale di sci ho anche vinto questa coppa e ora c'è qualche mamma o papà che vorrebbe provare? provo io sei proprio sicura mamma pig sono parecchi anni che non scendi con gli sci è come andare in bicicletta una volta imparato non si dimentica più questa è la pista dei piccoli signora pig credo di essere un po' troppo cresciuta per la pista dei piccoli da questa parte dove si va? fino ai piedi della montagna che bello la mia mamma sciera fino ai piedi della montagna dove sono i freni? no non sa frenare dobbiamo raggiungerla subito aiuto fa di largo mamma pig sta sciando sulla strada per tentare di raggiungerla sono tutti saliti sul pullman brava la mia mamma sa sciare alla velocità del pulmine conosco un posto dove ci sono degli specchi magici enormi dici sul serio? specchi stranissimi sono in una tenda e dove sarebbero questi specchi stranissimi? a Luna Park tutti i genitori portano i figli a Luna Park entrate signore e signori venite a vedere i miei specchi sorprendenti nella tenda ci sono degli specchi deformanti caspita che strana che cosa mi è successo? sembriamo fatte di budino guarda budino 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 mi spieghi come funziona questo specchio papà? è semplicissimo ricordando che il fuoco di una parabola di equazione y uguale a x al quadrato più bx è una specie di magia esatto una specie di magia guarda che buffo sono tutto appiattito mi si è allungato il collo sembro una giraffa questo specchio invece mi sembra normalissimo ma papà dove è andato a finire il tuo grosso pancione? pancione? quale? arriva mamma coniglio con i suoi due gemellini rosy e robbie ecco la mia sorellina ciao come stai? benissimo grazie cara non posso fermarmi troppo a parlare però ho dei clienti nella tenda gli specchi sono fantastici vero papà pig? perbacco io vedo due signorine coniglio cosa intende dire? vedo la sua immagine riflessa ma non vedo nessuno specchio è proprio una magia ma papà cosa dici? quelle sono la signorina coniglio e mamma coniglio non vedi? davvero? in effetti noi due ci assomigliamo parecchio certo in fondo noi siamo sorelle forse l'ho appoggiata con troppa violenza non ho mai avuto il senso della misura no non abbia paura capo la giustiamo con la malta oppure con la sparachiodi no non credo proprio che vadano bene avrei un'idea la signorina coniglio ha un negozio di porcellane forse lei può aggiustarla sì tantissime grazie mamma pig ci vado subito seguitemi possiamo venire anche noi due certo tutti a bordo il signor toro si dirige verso il negozio di porcellane che è di proprietà della signorina coniglio eccoci arrivati buongiorno come posso aiutarvi? un toro nel mio negozio di porcellane buongiorno signorina coniglio guardi ho spaccato la mia teiera di porcellane cinese oh che peccato si può aggiustare secondo lei? vediamo un po' è ridotta piuttosto male quanto mi dispiace era bellissima è vero ma credo di poterla riparare che fortuna possiamo aiutarla? ma certo Peppa allora questi due frammenti vanno uniti insieme aggiustare la teiera è un po' come fare un puzzle ben fatto Peppa adesso li incolliamo anche George ha trovato due pezzi che combaciano bravissimo George abbiamo quasi finito mettiamo il coperchio è avanzato solo questo strano pezzo curvo dove andrà mai incollato? ma quello lì è il manico della teiera signorina coniglio giusto hai ragione non mi intendo di teiera in porcellana guardate è tornata come nuova però stia attento a non romperla un'altra volta sì io sono molto bravo a rompere le cose l'hai salvata per un pelo George è contento del nuovo palloncino Peppa e George arrivano a casa di nonno e nonna Pig questa volta tienilo stretto George non lasciarlo andare perché? come perché George? ci sono soltanto due tipi di palloncini nel mondo quelli che vanno verso l'alto e quelli che vanno verso il basso questo è un palloncino che va verso l'alto se ti sfugge di mano salirai in alto sempre più su sempre più su e arriverai in cielo fino alla luna luna! nonnino! ti ho preso! forse sarà meglio entrare così non rischerai più di perderlo George il tuo palloncino è al sicuro qui dentro ciao ciao Polly sai che George ha un palloncino nuovo? ah! palloncino! attento a non bucarlo Polly George ha affezionato il suo palloncino George si è lasciato sfuggire il palloncino di nuovo non preoccuparti George non volerà via perché qui dentro c'è il soffitto sta andando in corridoio e adesso va al piano di sopra oh no! sta andando in soffitta niente paura c'è solo un modo di uscire dalla soffitta bisogna passare attraverso la finestra sul tetto però nonna e io la teniamo sempre chiusa oh perbacco ma la finestra sul tetto oggi non è chiusa nonno! prendilo! come faccio a prenderlo Peppa ormai è volato via George purtroppo il tuo palloncino arriverà fin sulla luna e tu non lo rivedrai mai più nonno nonno ci piacerebbe entrare nel circo di quale circo parli? qui intorno non vedo nessun circo e allora a cosa serve quel tendone a strisce? questo è per il ricevimento all'aperto di nonna Pig cos'è un ricevimento all'aperto? è una festa in cui gli adulti chiacchierano e mangiano che strano modo di sprecare un tendone così bello se dentro ci fosse il circo sarebbe molto più bello allora perché non organizzate voi un bel circo? sì! e lo chiameremo il circo di Peppa hai finito di montare il tendone nonno? i nostri ospiti saranno qui tra poco ciao nonna! possiamo fare il circo nel tendone a strisce da ricevimento? ma sì! è un'idea stupenda! dobbiamo travestirci hai ragione! vado a prendere il cesto dei costumi al circo ci sono i pagliacci ci sono i sollevatori di pesi ci sono i giocolieri il mio papà lavorava al circo una volta che bello! e qual era il suo lavoro? vendeva i biglietti eccomi! sono sicura che in questo cesto troverete qualcosa di adatto Peppa trova un cappello a cilindro Danny Cane trova dei pantaloncini a poire e dei baffi finti Pedro trova un costume da pagliaccio qualcuno vuole essere truccato? io! grazie! voi che artisti del circo volete fare? a me piacerebbe fare il pagliaccio per fare il pagliaccio ti occorre un costume da pagliaccio? va bene! allora il pagliaccio lo farai tu io invece voglio fare il sollevatore di pesi va bene Danny farai il sollevatore di pesi e io voglio fare il giocoliere ma il giocoliere volevo farlo io brava! brava! d'accordo il giocoliere lo farai tu nonno pig purtroppo a me non è rimasto niente da fare come no? tu puoi fare il direttore del circo hai anche il cappello a cilindro e che cosa fa il direttore del circo? il direttore del circo comanda su tutti evviva! allora io sarò il direttore del circo brava! 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 brava!